Queste sono le foglie di stamattina che hanno ripreso a girare, mentre qui a Sydney è cominciato un blackout e i nostri armadietti nella biblioteca sono bloccati, avevano un codice elettronico, io non posso mandare un email importante all'agenzia di viaggio e insomma, lo vediamo. E' tornata adesso? La foglia! Ah! La foglia! Quindi speriamo che non duri troppo sto blackout perché sennò veramente qua pare che si ferma tutto. Non le foglie. Non le foglie però con il vento, dovremmo accumulare energia dalle foglie e dal vento. Le foglie! Ciao!